Si può ipotizzare una larga coalizione dopo il voto, come ha detto lei, su dei temi di programma riformiste? Certamente sulle riforme costituzionali, se la nuova legge elettorale ci deve essere un'ampia coalizione, però io ormai non ho neanche più voglia di dirlo perché quando si è parlato di legge elettorale, prima il PDL non era d'accordo a cambiarla ed era d'accordo al PD, poi quando si è convinto il PDL non era più d'accordo al PD, per cui hanno fatto un gioco dei quattro cantoni e alla fine il risultato è stato che ci siamo tenuti questa pessima legge elettorale e il cittadino nonostante i tentativi nostri ancora una volta non può scegliere i propri parlamentari.